Niente aumento degli stipendi, gli emolumenti resteranno inferiori al 40% rispetto a quanto previsto dalla nuova normativa. A deciderlo è stata la Giunta di Usmate Velate, che ha proceduto a rispingere la facoltà di adeguamento permanente delle indennità di sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale, stabilita dalla legge di bilancio 2022 del governo Draghi. Una normativa nazionale che puntava a riparametrare il trattamento economico complessivo vigente dei presidenti delle regioni, in misura percentuale a seconda della dimensione demografica dei comuni. Ma dopo aver già rinunciato nel 2022 all'adeguamento economico previsto dalla legge, l'Aggiunta Mandelli ha confermato la stessa decisione anche in questa occasione. Invece di un'indennità da 4.140 euro lordi, la sindaca di Usmate Velate continuerà a percepire gli attuali 2.258 euro lordi, cifra da cui poi derivano i compensi degli altri amministratori. Netto il commento della sindaca Mandelli, pur dovendo affrontare molteplici responsabilità e dovendo inevitabilmente rinunciare ad impegni lavorativi per far fronte a quegli amministrativi, io e la mia Giunta riteniamo che non si possa accettare un incremento dello stipendio del 40% in un momento di così particolare difficoltà socio-economica che percepiamo nella nostra collettività e più in generale nella popolazione italiana.